Siamo appena arrivato in quel di Londra con i potenti mezzi a disposizione della produzione e niente, un buon videoblog, terza puntata di Rodeo Club e niente, un buon videoblog, terza puntata di Rodeo Club Quando metti il buco verso lì lo sai che sei buono Ti piace quando metti il buco verso lì? Mettila leggermente di lato Quando metti il buco è sapra meglio Eh sì This train will now terminate at Kennington Please insure you have all your belongings with you when you leave the train Antonio Antonio You are watching Rodeo Club videoblog 2009 A one is gaps and one is gaps and one is gaps Yow I don't know believe 1922 Hi do you do Nice to see you too I'm in love with you And now we go out And so about Let's sit so long Don't reach so long Do you know How are you? How are you? What are you doing? Hey Hey Hey